Musica Ciao e benvenuti a tutti. Sono in compagnia di Patron Chef Anthony Marra nel suo ristorante qui a Castellana Grotte in provincia di Bari in Puglia. Sei che? Scopriamo l'anima artistica di Anthony con i suoi piatti d'autore. Ora seguiamo uno dei suoi percorsi di degustazione. Anthony, da dove iniziamo? Ciao a tutti, benvenuti nel mio ristorante. Oggi, come vedete, diversamente dalle altre volte che ci siamo incontrati, andremo a mostrarvi quello che è l'anima d'autore, l'anima poetica della mia cucina. Quindi andremo a spiegarvi e a farvi vedere quello che è un primo percorso degustazione che si usa a fare nel mio ristorante. Ok Melania, ora prendiamo il nostro antré. Grazie. Vedrai Valeria questo antré birichino, molto simpatico. Grazie. Grazie. Ecco qui il nostro antré. Ma è una figata, è proprio bellissimo. Però lo sto guardando, ma come si fa a mangiarlo? Valeria, semplicissimo. Nel momento in cui una persona si accomoda, ha il suo piatto di servizio, le sue forchette e tutto quello che riguarda la mise en place per poterlo degustare. Va inserito il cucchiaio all'interno, inclinato leggermente, presa la salsa, il rocher, qual è la figata di questo piatto? Questa pippetta va fatto questo gesto qui. Ora ve lo faccio vedere al volo. Praticamente cosa fa il cliente? Inietta da solo questo consomè, che non sarebbe altro che un brodo ristretto fatto da crostaci. Inietta, quando lo aprirà, uscirà questo leggero liquido che va a inebriare quello che è il nostro preparato prettamente di mare all'interno, con una panura di nocciola all'esterno. E quindi il dolce della nocciola, il mare che esplode, tutto quanto verrà deglassato in bocca e coccolato il nostro palato con questa crema di zafferano. Fatta con della patata julienne, del latte, dello scalogno e dei pistilli di classico zafferano, portati in una pre-infusione in qualche goccia di prosecco. Viene filtrato in tutto, frullato ed ecco il nostro piatto dopo averlo composto. Grazie Melania. Ora partiremo con il primo antipasto. È un gioco di colori, ora vedrete il nostro polpo. Andremo a presentare questa versione molto colorata. Eccolo qui, grazie. Il nome di questo piatto è un polpo scottato alle barba rosse, con un gelato al cocco e burrata, della chips di riso e una maionese di passion fruit. Che bello! Rosso e nero come siamo noi, rosso e nero. E come hai fatto a fare questi chips? Sono proprio molto curiosa, li voglio fare anch'io a casa. Grazie per il bello al piatto. Ora ti spiego. La chips di riso è semplicissima farla. Dobbiamo solo far stracuocere un nostro riso carnaroli. Portato a questa stracottura va frullato. Dopodiché va stesa su una teglia con della carta da forno. L'unica pecca qual è? Che ci vogliono dalle 7 alle 8 ore di forno a una temperatura di 85 gradi centigradi. Perché questa cosa? Perché non deve mutare né il colore, ma deve far fuoriuscire tutta la nostra umidità e il liquido in eccesso. Mentre per quanto riguarda il nostro polpo di colore rosso, non è altro che un polpo che ha subito una leggera bollitura, dopodiché viene fatto a pezzi, viene saltato in padella a delle temperature molto violente, anche perché dobbiamo creare la classica reazione di Maillard, come abbiamo già detto anche in altri piatti, nelle nostre ricette che abbiamo già eseguito. Dopodiché, arrivate ad una certa temperatura, va presa della barbabietola, comunemente chiamata, ma tecnicamente le barbe rosse, va frullata, passate con un nostro colino molto sottile, filtrato il tutto e sfumato. Nel momento in cui questa padella raggiunge queste alte temperature, cosa fa? Il polpo va a rapprendere tutto quello che è il nostro colore, quindi il rosso di questo meraviglioso ortaggio che ci dona. Per quanto riguarda invece la nostra mezza sfera di gelato con cocco e burrata, abbiamo preso del cocco, portato a una infusione a 60 gradi, le abbiamo aggiunto della burrata, abbiamo pastorizzato il tutto a bagnomaria e le abbiamo creato una specie di gelato. Quindi nel nostro abbattitore l'abbiamo fatto gelare per bene, lo abbiamo sferificato, quindi creato questa capsula a forma di mezza sfera e adagiato al centro del nostro piatto a intervalli tra il polpo e la nostra chips. Per quanto riguarda l'estratto di passion fruit o passion fruit, come preferite voi, basta che capite di quale frutto stiamo parlando, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso il nostro frutto, messo in un piccolo contenitore, in un brick, lo abbiamo emulsionato con un mixer a immersione, dopodiché lo abbiamo filtrato, abbiamo aggiunto un leggero addensante di cucina come la gomma di guar, quindi vi dico anche che tipo di addensante abbiamo usato, abbiamo creato questo gel molto molto delicato che andrà a dare freschezza al nostro piatto. Quindi abbiamo ricapitolando la freschezza del nostro passion fruit, la croccantezza della nostra chips, il sapito, il gusto, quello che ne rende padrone è il nostro polpo accompagnato da cosa? Da questo fresco gelato al cocco che ci fa tornare quelli che sono i paesi esotici e tutto quello che è di fresco. Wow, Anthony, secondo me devi scrivere un libro di poesie dedicato ai tuoi piatti. Grazie Valeria per questo grande complimento, comunque ci faccio un pensiero. Ora, passato questo antipasto, Melania grazie, andremo a proporvi il nostro tonno, quindi sarà una darnetta di tonno rosso, vediamo come ho pensato di crearla per voi. Sì, quindi ecco il nostro piatto, grazie Melania. Abbiamo una darnetta di tonno rosso, di tonno pinna gialla, questo lo specifichiamo, con un pane nero, una vellutata di lime e zenzero. Che bello, tutto colorato. Hai parlato del pane nero, che cosa intendi? E poi questa cosa bellissima verde, che cos'è? Allora Valeria, ti andrò a descrivere velocemente questo piatto. Partiamo dal pane nero, cos'è il pane nero? Il pane nero è la crosta di questo tonno, ora farò uno strappo alla regola, non lo faccio quasi mai. Vedi il nostro tonno? È stato passato per bene, panato in questa crosta di pane nero. Sotto abbiamo la nostra vellutata, che è fatto con un fumetto di orata, molto molto leggero. Ci abbiamo aggiunto un estratto di limone. Come si fa l'estratto di limone? Semplicissimo, va portato a nudo il nostro limone, va portato a temperature sui 50-60 gradi a sottovuoto. Lo mettiamo in forno, dando un po' di vapore. Dopo tre ore abbiamo il nostro estratto, che non è né amaro né aspro. Dopodiché questo estratto viene frullato, viene fatto decantare e inserito nel nostro fumetto di orata, che abbiamo precedentemente preparato. Dopo aver fatto questo fumetto, ci andiamo ad aggiungere delle zeste di zenzero e copriamo con una pellicola. La temperatura del nostro liquido, portato in una prefase di ebollizione, andrà a far decantare il nostro zenzero all'interno. Quindi dopo mezz'ora noi togliamo la nostra pellicola dalla nostra casseruola e avremo il nostro liquido ben pronto. Ha delle sfumature leggermente piccanti, delle note acidule dovute al nostro limone e una sapidità intensa, perché è il fumetto della nostra orata. Dopodiché viene fatto il nostro pane nero. Curiosità, come lo possiamo realizzare? Non è un pane che si compra, non è un pane che si trova. È veramente una cosa molto semplice, è una cosa molto utile, perché il pane che a noi rimane, il pane raffermo, non va mai gettato. Primo perché è un dono troppo importante, poi perché in cucina non ci devono essere sprechi. Cosa facciamo? Prendiamo il nostro pane, lo andiamo a privare della sua boccia. Dopodiché lo andremo a mettere in una casseruola con un trito di scalogno, dell'olio extravergine di oliva, in questo caso andremo a usare il leccino, mettiamo il nostro pane che è stato tenuto a mollo per circa dieci minuti, lo strizziamo per bene e lo mettiamo dentro questa casseruola a soffriggere. Prendiamo la nostra seppia che andiamo a ricavare dove? Da Rocher, quindi dall'antre che abbiamo preparato precedentemente, quindi dalla seppia, ci prendiamo la sacca al nero di seppia. Andiamo a rompere questa sacca all'interno della nostra casseruola dove sta soffriggendo il nostro pane e il pane diventerà completamente nero. Ora, per velocizzarvi il tutto, vi dico dove potete trovare questa ricetta. Voi prendete la ricetta della pappa al pomodoro, al posto del pomodoro ci andate a sostituire il nero di seppia. Da lì è nata l'idea che io oggi ho portato sulla nostra tavola. Dopodiché abbiamo preso dei steli, diciamo spicchi, del nostro limone, li abbiamo disidratati a 45 gradi per sei ore e abbiamo creato questa rosa, questo ventaglio qui. A cosa serve questo ventaglio? A purificare il nostro palato dopo aver degustato un pesce che ha una struttura importante e dei gusti ovviamente molto molto particolari che nel loro sposalizio creano un, diciamo, connubio particolare. Ed infine, non ho dimenticato la tua domanda, ma va per ordine di grado di importanza il nostro piatto. Abbiamo questa polvere di sedano, che non è altro che questa procedura qua. Prendiamo la nostra costa di sedano, con un pela patate andiamo a privare dei suoi filamenti che possono creare dei disturbi e dei fastidi quando vengono ingeriti. Dopodiché il nostro sedano va messo a essiccare. Lo possiamo fare in due modi, o quello antico o quello moderno. A noi quello antico non ci è permesso, ma quello moderno sì. L'antico è, lo mettete fuori all'aria con un canovaccio sopra asciutto, pian piano si andrà a, diciamo, asciugare completamente. Lo prendete, lo mettete in un frullatore e creiamo questa polvere sempre verde. Nel modo moderno abbiamo i nostri essiccatoi, va messo all'interno dei nostri essiccatoi a una temperatura di 60 gradi per circa tre ore. E abbiamo ottenuto la nostra polvere. Questo è tutto, Valeria, grazie a Melania. Possiamo ritirare il nostro tonno e serviamo l'ultimo di questa trilogia di antipasti. L'ultimo non per importanza, ma perché, questa è una parentesi che non avevamo aperto, quando viene fatto un percorso degustativo, non sono solo i gusti o i vari abbinamenti che vengono calcolati, ma viene calcolato anche il piatto dal punto di vista di come viene gustato dal nostro palato. Quindi, se noi andiamo con un piatto che ha una massa grassa maggiore, cosa fa la massa grassa? Ci va a tappare il nostro palato e non andiamo più poi, in un secondo momento, a percepire quelli che sono magari i sentori del nostro passion fruit, del nostro polpo, o la darnetta di tonno con il nostro pane nero, eccetera. Quindi, l'ultimo di queste mie tre creazioni, abbiamo un salmone vaporizzato con uno spumoso di podolica e del cristallo croccante. Wow, sembra quasi un piatto acrobatico. E questo cristallo è uno spaghetto, indovinato? E poi, cosa si intende sotto lo spumoso di podolica? Che cos'è? Allora, Valeria, ti sei avvicinata molto. Questo è vero che è uno spaghetto. In realtà, sono quattro spaghetti messi insieme, lavorati e intrecciati tra loro. Come viene fatto? Viene sbollentata leggermente la nostra pasta, quindi il nostro spaghetto, intrecciato, data la forma e fritto. Perché, tu mi dirai, perché non l'hai chiamato spaghetto, l'hai chiamato corallo croccante? Perché se tu noti qui da vicino, intorno alla nostra pasta, fa dei leggeri puntini, quello è l'amido che stava fuoriuscendo, che va a creare proprio questo effetto di corallo croccante. Di là, Lambo di Genio, dici, questo qua li devo cambiare il nome. Non ti chiamerai più spaghetto, ma ti battezzo corallo. E così è stato fatto. Successivamente, la nostra spuma di podolica non è altro che un mix di tre formaggi acidi, a pasta morbida, ovviamente, del nostro territorio. Quindi, ci tengo particolarmente a valorizzare quelli che sono i nostri formaggi, quello che è il nostro territorio, assolutamente ricco di tante cose. Abbiamo affrontato questo discorso già altre volte. Quindi, perché podolica? Perché prende il nome dal tipo di mucca che andiamo a prendere i nostri formaggi. Quindi, è un ringraziamento anche a questi animali, queste persone che dedicano anche loro, la loro vita a fare questi formaggi, tempo, lavoro duro, caldo aspissiante. Quindi, mi è venuto in mente di creare questo piccolo piatto che nel suo essere è molto, molto coccoloso. Questo è un piatto che i romantici, la gente che ama le coccole, insomma, tutti coloro che hanno bisogno di una carezza e una coccola al nostro palato. Questo è un piatto dove io faccio fuoriuscire tutte queste qualità. Ok, Melania, prenditi quest'ultimo antipasto. Grazie. Abbiamo terminato la nostra trilogia di antipasti. Ora andremo a presentarvi il nostro primo piatto. Ovviamente, tra un intervallo e l'altro, e tra la nostra degustazione di ogni singolo antipasto, è ovvio ed è scontato dirvi che c'è una carta di vini che viene abbinata anche alla degustazione vinicola di quelli che sono i nostri prodotti, i nostri capolavori e i nostri abbinamenti. Come vedete, il nostro piatto è arrivato. Grazie, Melania. E abbiamo un tagliolino al limone con una salsa sempre verde e un politico di crostaci. Anthony, che cosa vuol dire politico e che cos'è sta salsa verde? Allora, Valeria, iniziamo per grado così possiamo capire tutto quanto e diciamo soprattutto le domande che mi hai fatto. Allora, politico cos'è? Politico è l'unione di cinque tipologie di crostaci che vanno a comporre il nostro piatto. Queste cinque tipologie però noi ne abbiamo due a vista, che sono i principali. Quindi abbiamo lo scampo e un gambero argentino. Le altre tre tipologie che sono gamberi bianchi, mazzancolle e cannocchie. Qualcuno le chiama anche i cicale, però il termine giusto è cannocchia. A cosa servono quegli altri tre ingredienti? Allora, il gambero e la mazzancolla viene pestato e quindi la troviamo all'interno del nostro nido di pasta. Per quanto riguarda la cannocchia, dove troviamo la nostra cannocchia? La troviamo nel brodino, quindi nel nostro brodo, molto molto leggero questa volta. Quindi abbiamo visto la nostra bisque nelle altre ricette precedenti, dove c'è un'esplosione di gusto particolare, perché a differenza della bisque che teoricamente, anche sui libri, viene fatta solo dalle teste e dal carapace del gambero, io ci vado a mettere proprio il frutto. Quindi usiamo un gambero bianco per fare la bisque. Questo perché, non perché è uno spreco, ma perché, e questo ci tengo a dirlo perché qualcuno sotto i nostri video hanno fatto dei commenti e io ho anche risposto, proprio perché per dare un'esplosione sensoriare molto più accesa di quella che si ottiene facendo solo dalle teste e dai carapaci. Mentre questa volta io vado a usare solo le teste per fare questo brodino e in più la cannocchia tagliata a metà. Perché la cannocchia? Perché non ci va né a tingere molto a livello di colore il nostro brodo, quindi resta molto trasparente e meno arancione. Perché questo? Perché facendo una salsa sempre verde, che è data dall'estrazione e un passato di tre ortaggi, cosa andremmo a fare? Mesciando un colore molto acceso andremmo a distogliere tutto il lavoro fatto per l'estrazione di questi tre ortaggi e a renderli sempre verdi. Ecco perché il nome è sempre verdi. Ovviamente i due vengono fatti con un soffritto base, quindi abbiamo la zucchina e il nostro spinacio. Per quanto riguarda invece il basilico, cosa viene fatto? Viene fatta una vera e propria estrazione di clorofilla. Come viene fatta la nostra estrazione di clorofilla? Ve lo dico al volo. Viene preso il nostro basilico, portato in acqua leggermente salata per 30-40 secondi dopo aver raggiunto il nostro bollore. Viene preso il nostro basilico all'interno della cassaruola, passato in un canovaccio di cotone, strizzato per bene, frullato, rifiltrato. Tutto quello che è l'acquetta, il liquido volgarmente chiamato, che caccerà via il nostro basilico, quella è la clorofilla. Quella sostanza viene aggiunta al nostro preparato di zucchine e spinaci e ci dà un colore fluo. Quindi tiene l'integrità del nostro colore, che oltre a darci un gusto di vegetale e di fresco, che va a sposare in maniera perfetta quello che è il nostro tagliolino a limone. Tagliolino a limone è una pasta secca, trafilata in bronzo. La sua qualità primaria qual è? Che le trafile non lavorano per molte ore, ma arrivate a un tot d'ore, parliamo relativamente di 800-900 ore di questa trafila, vengono smontate e impostate le nuove trafile. Questo cosa ci dà? Questo sistema qua ci dà una continua qualità di produzione, avendo questa pasta che va a catturare in maniera eccellente la nostra salsa senza utilizzare, noi ne abbiamo già parlato, io sono contrario, panna e roba varie, senza utilizzare addensanti extra per creare la nostra famosa cremina. Quindi sposiamo il gusto del limone, il gusto sempre verde e fresco del nostro vegetale, il sentore di crostaceo che è principe di questo piatto, creiamo questo connubio di gusto che va a darci questa sensazione di cremosità, dolcezza, ma allo stesso tempo leggerezza al nostro piatto. Detto questo, credo non ci siano nessun altro tipo di domande, qualsiasi curiosità, c'è gli storici, usi, costumi, iscrivete sotto il nostro canale, sarò lieto di darvi tutte le risposte che volete. Ora, Melania, possiamo togliere il nostro primo, e dopo ce lo assaggiamo per bene, perché è peccato, e passiamo al nostro secondo. Il secondo particolare nasce da una storia veramente ridicola e scherzosa, di qua prendo spunto al nostro secondo. E abbiamo un bandierillas di pesce e spada in salsa di edamame. Antoni, qua ho troppe domande da fare, quindi è meglio che ti passo la parola, così spieghi man mano tutto, e sicuramente risponderai a tutte le domande. Allora Valeria, questa è una ricetta davvero molto semplice, però prima di spiegarti la ricetta, voglio dirti da dove nasce questa idea. Un giorno guardando un nostro documentario su un canale in tv, ho visto come in Africa fanno lo spiedo, cioè praticamente prendono il fusto della foglia del banano, ci mettono i loro animali e vanno sopra il fuoco. Di là mi è venuto in mente di utilizzare uno stecco, un qualcosa che potesse riprodurre questa immagine. Ovviamente stando in un territorio di ciliegie e quant'altro, non potevo far altro che usare il nostro stecco di ciliegio. A cosa serve questa cosa che non è solo un effetto dal punto di vista cromatico o diciamo decorativo, ma dà proprio un gusto, cioè gli oli resinosi che si trovano all'interno del nostro stecco di ciliegio, che ovviamente abbiamo preso, pulito per bene, spellato, l'abbiamo messo in acqua e aceto, dopodiché lo abbiamo aperto, portato in forno a 180 gradi per un'ora. Abbiamo così creato questo nostro stecco privo di agenti esterno, privo di qualsiasi intruso che non potesse essere edibile o commestibile. Con questo non vuol dire che lo stecco viene mangiato, ma può essere utilizzato per una lavorazione. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso una fettina di pesce spada, quindi molto molto fresca, l'abbiamo aperta sul nostro tagliere, ci abbiamo messo all'interno del pomodorino a concassè, cos'è il pomodorino a concassè? È un pomodoro sbollentato, privato della sua pelle e dei suoi semi interni. L'abbiamo tagliuzzato veramente in maniera molto molto sottile, abbiamo farcito questo interno e lo abbiamo arrotolato intorno a questo stecco di ciliegio. Abbiamo passato il nostro composto non in albume d'uovo, ma in un suo prodotto che lo sostituisce nell'era moderna, qual è la gomma di guar. Quindi abbiamo mesciato questa gomma di guar con dell'acqua, abbiamo creato lo stesso collagene che ci dà l'albume d'uovo. In sapore e in odore. Abbiamo panato le nostre mandorle, perché il ciliegio sì, territorio, qui come sebbene vi ricordate abbiamo fatto anche un piatto dove davamo questo omaggio alla ciliegia di Turi, alla patata spunta di Polignano. In questo caso cosa ho abbinato? Ho abbinato lo stecco di ciliegio e la mandorla che è a Castellana, quindi territorio dove io ho proprio il mio, diciamo, ristorante, ne fa da padrona. Quindi cosa abbiamo fatto? Fatto il nostro, come puoi vedere, fatto il nostro stecco di ciliegio, il nostro bandierellas, ci abbiamo aggiunto che cosa? Volevo spaziare, non volevo rimanere qui a casa con la salsa d'accompagnamento. Cosa ho deciso di fare? Sono andato a prendere le edamame, che è un fagiolo di soia. Abbiamo preso queste edamame, le abbiamo sbollentate in acqua e limone, poi messe nel cutter con del ghiaccio e abbiamo preparato la nostra vellutata. È un piatto che gioca su un contrasto anche di calorie, quindi come fonte calorifera calorie. Quindi abbiamo la salsa che è tiepida, il nostro pesce spada che è caldo, quando lo andremo a rompere cosa fa? Va a colare il nostro pomodoro che è situato all'interno, che ci dà una nota leggermente acidula a quello che è sicuramente un gusto molto molto dolce. L'olio resinoso della ciliegia che all'interno ci dà quel profumo, che non riusciamo a capire cos'è, ma è quello. La nostra mandorla prodotto molto molto dolce, le edamame stesse identica cosa, il tutto bilanciato con questo pomodoro che esce e in più mi permetto di mettere sempre una leggera spolverata di polvere di clementine, perché per due motivi. La prima richiamo il mio paese nativo, quindi palagiano, terra ricca di questo frutto che ne fa da padrona e in più ci dà un aspero particolare al nostro piatto che va a bilanciare e a dare allegria al nostro palato. Questo è il nostro secondo. Credo che abbia esaudito tutte le risposte che potevano esserci a, diciamo, qualsiasi tipo di domanda. Che dirvi? Provatelo. Dopo queste sinfonie di parole dedicati a questo piatto e anche a tutti gli altri piatti, sicuramente Anthony hai preparato un bel dolce? Certo Valeria, abbiamo preparato un dessert, grazie Melania, possiamo togliere il nostro secondo. Voglio aggiungere un'altra cosa, prima del nostro dessert nel percorso di degustazione segue sempre un pre-dessert. Non lo abbiamo fatto perché sono semplicemente una composizione di formaggi, quindi che spaziano dal vacchino a un formaggio, a un caciocavallo di fossa, a un pecorino di grotta. Quindi, dato che fondamentalmente non c'è nulla da spiegare tranne la provenienza di questi formaggi, ora andremo direttamente al nostro dessert. Grazie Melania, vieni con il dessert. Ci tengo a dire che questa è una formula di dessert che abbiamo. In realtà ne abbiamo un paio che mettiamo a disposizione del nostro cliente. La prima è una preparazione delle crepes su set, quindi una preparazione classica fatta al flambè a vista del nostro cliente. L'altra invece, per chi non vuole quel tipo di dessert, magari vuole un dessert più fresco, un semifreddo, un qualcosa di un po' più leggero, abbiamo questa opzione, che è un semifreddo con della crema inglese e mascarpone e croccantino e amaretto. Il tutto guarnito con una vellutata di crema al caffè. Anthony, e che cos'è questo biscotto sotto? E poi sono anche curiosa, come hai fatto la crema al caffè? Allora Valeria, sicuramente ora ti farò felice perché in realtà quel biscotto marrone che trovi sotto non è altro che un savoiardo inzuppato ad un caffè. Il caffè però, come l'abbiamo fatto? Lo abbiamo fatto alla russa. Quindi in una casseruola abbiamo messo della polvere di caffè macinata, dell'acqua molto fredda, abbiamo portato per ebollizione, con un'etamina abbiamo filtrato per bene il nostro caffè e quindi abbiamo ottenuto questo liquido dove immergere i nostri savoiardi. Perché facciamo quel tipo di caffè? Uno potrebbe dire non puoi fare il caffè alla moca o alla macchinetta espressa. No, perché con quel processo noi abbiamo un caffè che non ci viene molto forte, molto ricco di profumi, molto intenso, ma è un caffè dove nella preparazione di questo dessert esiste ma è delicato, quindi entra con eleganza nell'unione degli altri gusti. La nostra crema inglese è stata fatta con una crema pasticciera, fatta solo con albumi d'uovo senza tuorli, ci abbiamo aggiunto della panna liquida all'interno della preparazione, dopodiché l'abbiamo abbattuta e resa in questo stato. A finire il tutto per dare croccantezza e una spigolosità di profumo anche da abbinare alla nostra crema al caffè che c'è sul fondo del nostro dessert, abbiamo preso degli amaretti, li abbiamo sbriciolati e abbiamo cosparso sopra al nostro semifreddo. Mentre per quanto riguarda la crema al caffè sul fondo del nostro piatto, è fatta semplicemente con della panna fresca non montata e l'aggiunta di qualche goccia di caffè al suo interno. Prepariamo il nostro piatto, sporniamo il nostro semifreddo dal nostro pirottino o dal nostro contenitore che ci ha permesso di dare questa forma, lo sporniamo, un po' di crema al caffè sul fondo del nostro piatto e il nostro dessert è servito. Perfetto, il nostro dessert vieni Melania, lo abbiamo presentato, grazie. Salutiamo tutti coloro che vedranno il nostro video e ricordatevi, una cucina senza saperi e una cucina senza sapori. Ciao! Ringraziamo Anthony Marra e il suo staff e passo la parola ad Anthony. Grazie a te Valeria e un grazie soprattutto a tutto lo staff di Saiche Web TV che ci ha accompagnati in questo dolce momento, dolce percorso. Saiche può interessare o coinvolgere anche te! Grazie a te Valeria e a te Valeria e a te Valeria e a te Valeria. Grazie a te Valeria e a te Valeria.